buongiorno un consiglio letterario si apre in questi giorni il sinodo della famiglia e si parla di famiglia ma riusciamo a parlare bene di famiglia riusciamo a capire cosa si intende per famiglia allora ecco che vorrei proporvi a partire da oggi qualche libro che ci permette di capirlo meglio di capire meglio come fare a essere effettivamente preparati su questo tema ecco il primo con poche parole si tratta di un libro scritto in modo molto brillante con una grande profondità con grande provocazione uno stile che a me piace molto che ci permette di capire effettivamente il valore della famiglia e che cosa sia la famiglia quella basata su un rapporto di affetto tra un uomo e una donna che genera vita e che quindi è aperta alla vita e che quindi è aperta alla società e che quindi è effettivamente la cellula prima della società buona lettura